Come ogni anno di consueto ospitiamo il congresso internazionale per scrittori al quale prendono parte editor e agenti letterali provenienti da diversi paesi del mondo, Inghilterra, Germania, Italia e a questo proposito le presenze al congresso sono aumentate soprattutto da parte degli italiani, questo può essere un dato utile da registrare. In ogni caso il numero complessivo dei partecipanti si aggira su 150, compresi anche gli ospiti e anche l'offerta presente al congresso attira chiaramente gli stessi editor che comunque vengono qui e trovano nuovi talenti. È un congresso molto molto ricco, sempre più ricco, ci fa molto piacere che è stata abbracciata dall'industria editoriale italiana. Come avete sentito si è un po' sparsa la voce che è non solo un congresso dove puoi avere delle notizie ma anche una grossissima opportunità. Ci insegna il caso della signora Torregrossa.